Ben trovati ad un nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi e realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Torniamo a parlare di mediazione del credito di mutui di finanziamenti e lo facciamo con Riccardo Bernardi, CMO di 24 Max. Ciao Riccardo, grazie a te. Ciao Gerardo, grazie a te dell'invito come sempre ed è un piacere. Anche per noi. Allora, partiamo subito con una domanda che riguarda, prendiamo una larga, ecco come si dice. Non troppo. Non troppo, non troppo. Allora, parliamo di presidio territoriale, di banche che stanno facendo un passo indietro rispetto alle filiali, ma le reti stanno crescendo. Come vedi, ecco, questo scenario? Ma allora, è uno scenario che ormai, più che uno scenario, è una tendenza che va avanti da diversi anni, perché di fatto le banche hanno dei costi per tenere aperte le filiali, sia in termine di locazioni, di spazi commerciali, che poi di personale per dare il giusto servizio ai clienti, veramente importanti, soprattutto in un momento dove c'è una continua trasmigrazione di tutte le attività bancarie online. Quindi, di fatto, lo vediamo anche su noi stessi, se la domanda è quante volte sono andato in banca negli ultimi 12 mesi, quando arrivo a tre sono già bravo. Di contro, soprattutto nel nostro settore, quando un cliente deve fare un mutuo e quindi fare sostanzialmente l'operazione finanziaria più importante della sua vita, è fondamentale che ci sia qualcuno che possa assisterlo in un'operazione così complessa con così tante variabili. Cioè, un'operazione che si fa una volta ogni 10-15 anni. E in questo momento, ovviamente, il nostro settore, io per il nostro settore intendo mediazione creditizia, sta costantemente guadagnando spazio, proprio perché dà la possibilità al cliente di avere una persona specializzata, che lo incontra fisicamente, senza code, che magari va anche a casa del cliente a fargli una consulenza. E questi aspetti sono molto apprezzati. Quindi credo che questa tendenza sia diventata irreversibile. Ogni giorno si legge sul giornale, ottimizzazione del personale, tagli per pensionamenti. E credo che anche nei prossimi anni proseguirà questa situazione, assolutamente. Vabbè, buon per voi. E credo anche per il cliente che riceve una consulenza, diciamo, magari un po' più qualificata, rispetto allo sportello. Allora, viviamo in un mercato che, ahimè, è incerto, no? Post pandemia, guerra, insomma, economia che non promette, è benissimo. Come fa una persona che, insomma, vuole ottenere un mutuo casa a seguire la rotta giusta, a fare la scelta giusta? Ma allora, la prima cosa che deve fare è non leggere i giornali, perché di fatto ogni giornale che compri oggi c'è scritto che ha scoppiato il caro mutui, che non vuol dire nulla, perché a parte che i mutui sono cari e non cari, se l'hai già fatto, non se lo devi fare, perché se lo fai, la storia ci insegna che ti becchi il tasso che c'è in quel momento. Ebbè, certo. Quindi a volte i momenti sono più convenienti, a volte leggermente meno, però o hai soldi per poter comprare casa senza una banca, oppure devi prenderti il tasso che c'è. Sui mutui fatti negli ultimi anni, visto che più del 90% sono stati fatti a tasso fisso, non è vero che è scattato il caro mutui, perché tasso fisso vuol dire che è fisso, quindi anche se i tassi arrivassero al 120%, se io ho fatto il fisso, poco mi importa, ovviamente un po' di più per il variabile. Certo che oggi per chi deve fare un mutuo nuovo è fondamentale farsi assistere, perché di fatto si entra in una giungla dove il tasso fisso comunque sta crescendo, oggi siamo intorno anche al 3, 3, 50, ma penso che a breve arrivi anche al 4. Guardavo stamattina l'Euriers, che è l'indice che regola il fisso, sul 20 anni è al 2,07, quindi più lo spread che è il guadagno della banca superi abbondantemente il 3. Però ci sono molte banche che in questo momento hanno creato un prodotto che si chiama variabile a rata costante. Cosa vuol dire? Vuol dire che hai un tasso comunque molto conveniente, perché sei ancora intorno all'1,50, quindi tanto meno rispetto a un fisso e non hai, il variabile ovviamente ha la paura che se i tassi dovessero aumentare anche lui aumenta di conseguenza, questo prodotto ti mantiene per tutta la durata la rata costante. Al massimo tra 30 anni e sinceramente, tra 30 anni e 6 mesi, vediamo, se saranno 30 anni e 6 mesi me ne farò una ragione, tanto caso l'ho comprata magari ad una rata 150-200 euro inferiore al mese rispetto al fisso, quindi farsi assistere ci sono tante soluzioni, assolutamente. Certo, certo. Allora parliamo un attimo del modello 24 Max, un modello inedito, vuol dire unico, è un modello che mette insieme una rete di consulenti del credito associati quindi a corner finanziari creditizi, in questo ad oggi nelle agenzie immobiliari Remax, quindi voglio dire un buon mix che favorisce anche una sinergia tra finanza di fatto, credito e immobiliare. Come sta andando questo progetto e dove vogliamo arrivare? Ma allora, hai detto una cosa giusta, il modello è unico perché ci sono anche altre reti che hanno questa situazione di mediatori creditizi e agenti immobiliari, la differenza è che non abitano nella stessa casa. Di fatto noi non facciamo uffici finanziari separati dall'agenzia immobiliare perché il nostro sogno era quello di avere il cliente acquirente nel momento in cui entra in una nostra agenzia immobiliare Remax, in tempo reale si trova l'esperto del credito che già lo indirizza nel modo giusto e questo sta dando degli ottimi risultati perché di fatto, il primo risultato è che in un mercato i dati CRIF ci dicono che nei primi quattro mesi il mercato dei mutui sta contarendosi del 25%, noi nei primi quattro mesi siamo a più 25% rispetto all'anno scorso, anche come nuove pratiche caricate. Questo non perché c'è una formula magica ma perché di fatto c'è un'immediatezza nella consulenza dove il cliente subito si trova questo servizio e ne usufruisce anche perché nella fase iniziale è incluso nel servizio di mediazione, quindi ha subito un panorama di banche e riesce a capire qual è quella migliore per il tipo di operazione che deve fare. Soprattutto parlando poi di questa sinergia tra agente immobiliare e mediatore creditizio, quello che è un dato incredibile ed era un altro sogno che avevamo quando abbiamo creato questa società, è che oltre l'84% delle pratiche che intermediamo hanno un LTV che è l'intervento di mutuo sul prezzo, sotto l'80%. Quindi qualità. Quindi stiamo intercettando pratiche di quella qualità che di solito nel rapporto mediatore creditizio agente immobiliare si va sempre sul 90-95. La pratica stiracchiata. Esatto, perché di fatto in quel momento tutta la clientela usufruendo di questo servizio ne traggono oggettivamente un beneficio. Anche quel cliente particolarmente interessante per la banca gli si riesce magari a dare un prodotto che la sua banca stessa non ha. Quindi sta funzionando molto bene per questi due aspetti. I dati, anche l'anno scorso abbiamo chiuso il terzo bilancio inutile. Sì, so che avete fatto anche degli aumenti di capitale. Abbiamo quasi 100 azionisti all'interno della società, tra anche broker Remax, mediatori 24 Max. Questa è una cosa importante perché se una persona che lavora all'interno della società ha deciso di investire del denaro per comprarsi le azioni, penso che una persona non abbia piacere a buttare i soldi. quindi se l'ha fatto perché ne trae sicuramente dei vantaggi. Bene, parliamo un attimo di giovani, quindi Mutui Under 36, io leggo voci di corridoio che alcune banche sono un po' disamorate per abbassare l'attività rispetto a questo tipo di prodotto. Secondo te continueranno ad assecondare allegramente la politica delle buone intenzioni oppure è un problema di qualche banca, altre no? Come la vedi? Ma allora sicuramente un dato certo che noi facendo questo credit report trimestrale quello che abbiamo notato è che la percentuale di persone sotto i 36 che stanno comprando casa è aumentata parecchio. Oggi è la prima fascia che compra casa mentre prima era la seconda, anche terza, erano più persone in su qualità. Ma perdurerà questa cosa, questa tendenza? Ma allora diciamo che i giovani sono le persone che sinceramente se vogliono uscire di casa una la devono comprare o la devono affittare. Oggi sull'affitto c'è più la tendenza a comprare perché fermo restando i giornali che dicono che è scattato il caro Mutui in realtà i tassi sono ancora super convenienti. Io ricordo il 2007 che era stato l'anno con il massimo numero delle compravendite, il variabile era il 5 e il fisso era l'8. quindi un fisso al 3 oggi è come un contesto di tutto rispetto. Io lo farei domani mattina. Chiaro che sei mesi fa lo facevi all'1 però purtroppo nessuno si aspettava uno scenario del genere. sul fatto che possa continuare adesso il governo ha, ti chiamo Mario Draghi, gli chiedo che intenzioni ha per il futuro. Magari le intenzioni sono anche buone, bisogna capire se il sistema bancario... Ma allora diverse banche hanno dei prodotti agevolati per gli under 30, per gli under 36 e stanno continuando anche a promuoverli. C'è qualcuno che però dice non voglio entrare in quel mercato? Ma c'è qualche banca che ovviamente sta fuori, poi non conosco le politiche di ogni banca in termini di proprio core business. Però secondo me essendo diventata la fascia di mercato più ampia oggi sarebbe un peccato non continuare a fare dei prodotti ad hoc per questa situazione. Quindi secondo me è una tendenza che sicuramente per il 2022 può continuare, e sta continuando. Per i prossimi anni, come si dice, fammi indovinare ti farò ricco. Ecco, va bene, va bene. A proposito, prossimi anni, sappiamo che il mercato... Aspetta che l'ora consulto. L'ora, insomma il 50% del fatturato immobiliare, quindi da compra vendita, è sostenuto dai mutui. Secondo te questa situazione così di incertezza potrebbe portare a così un restringimento dei criteri di erogazione e quindi un minore impegno delle telebanche, ecco, a concedere mutui, questo in qualche modo poi influirà di fatto anche sul numero di compra vendita. Come vedi, è plausibile questo pensiero oppure no? Allora, storicamente immobiliare e finanziario sono sempre andati a barcetto e lo andranno sempre. Quindi questo dato del 50% è sempre stato così storicamente, indipendentemente da picchi di mercato o crolli di mercato. Anche perché l'alternativa per un cliente è non fare il mutuo e mettere i soldi. Però se non li hai, non compri la casa. Non è che sono un po' pragmatico su questa cosa. Sui criteri assuntivi... Allora, da una parte le banche apprezzano molto il prodotto mutuo e oggi, avendo dei tassi comunque un filo più alti, hanno anche dei margini un po' più interessanti. Quindi, sai, è il prodotto migliore per una banca perché comunque è un prestito garantito da un immobile. Ok. Quindi è un prodotto che piace molto. Leggevo anche ieri che c'è questa... Vogliono fare qualcosa. Si comincia a parlare di cattivi pagatori in Italia. Leggevo proprio un articolo ieri e parlava di questi 20 milioni di persone che hanno segnalazioni che magari hanno segnalazioni passate che non è vero che non sono cattivi pagatori. Quindi, si allentano anche un po'... Almeno, è una cosa di ieri, poi non so se allenteranno... Dopo i 19 milioni di evasori abbiamo anche i 20 milioni di cattivi pagatori. Quindi, se questi cattivi pagatori 10 dicono vabbè, sì, magari sono stati cattivi una volta, però poi sono tornati uomini. Esatto, esatto. C'è riscatto. Non è che se uno una volta fa un errore poi non se lo paga per tutta la vita. Quindi, se si allenta anche un po' da questo punto, visto che se ne inizia a parlare, secondo me è un aspetto positivo che potrebbe permettere a diverse persone di magari fare un acquisto che prima invece non gli avrebbero concesso il mutuo. Insomma, vediamo un po' cosa succede. Ma non sono così... Pessimista. Pessimista, assolutamente. Certo, essere euforici e ottimisti sarebbe stupido oggi perché comunque il mondo non è proprio... Un posto tranquillo. Un posto sereno oggi. Questo è... E di fatto noi dobbiamo... non possiamo farci nulla. Sarebbe bello poter fare qualcosa ma dobbiamo semplicemente adattarci alla situazione che stiamo vivendo. Certo. Comunque la richiesta di immobili c'è. Sì. I tassi dei mutui sono ancora molto competitivi. Interessante. Sì, sì, sì. Manca forse un po' di prodotto perché oggi si è comunque più richiesta che offerta e quindi non credo in tracolli. Poi sai quello che succede domani. Non è quello che succede oggi. Gestiamo quello che possiamo gestire. Si naviga un pochino, è brutto da dire, però in queste situazioni si naviga un po' a vista. Magari intanto ci si va in prua a vedere se c'è qualcosa. Qualcosa, ok. Se aspetta spostati un pochino. E quindi questo è. Ok. Allora, come facciamo un appello? Facciamo un appello ai potenziali consulenti del credito. Intanto ricordiamo il sito web che www.24max.it, peraltro appena rinnovato. Nella grafica e nei contenuti, come si dicevano, come recitava, ok. Quindi c'è spazio per nuovi consulenti. Perché un consulente del credito o una persona dovrebbe avvicinarsi a 24max per iniziare una carriera con voi? Non ti rispondo in linguaggio tecnico, ti rispondo in una cosa abbastanza d'attualità che è il petrolio. Perché noi di fatto abbiamo dei pozzi di petrolio che sono le agenzie immobiliari e cerchiamo qualcuno che ci voglia piantare, che è un mediatore creditizio, che voglia piantare la trivella e iniziare ad adestare il petrolio. Ok. Questo è il motivo per cui dovrebbe fare parte del nostro gruppo. Pragmatico, come sempre. Va bene, va bene. Riccardo, grazie per essere stati con noi. Grazie a te Gerardo. Ci vediamo prossimamente per qualche aggiornamento. Assolutamente. Buona giornata. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello chiocciola gerardopaterna.com. Alla prossima. Alla prossima.